Siamo con Rocco Russo, assessore uscente alla pubblica istruzione, ovviamente la prima domanda è proprio su questo settore, lei che cosa ha in mente e che cosa ha programmato? La nostra coalizione è molto consapevole dell'importanza che la scuola riveste nella società contemporanea e noi vogliamo investire sul futuro dei nostri figli, per cui partendo da questo presupposto abbiamo posto l'accento nel nostro programma amministrativo su queste tematiche inserendo alcuni punti qualificanti. Innanzitutto il nostro obiettivo è quello di migliorare le strutture scolastiche attualmente presenti sul territorio cittadino, in secondo luogo un altro obiettivo importante è quello di sistemare le stesse strutture scolastiche dal punto di vista sismico e dal punto di vista statico per poi arrivare a quello che è un pochettino il sogno di tutti noi genitori ortesi, vale a dire cercare di edificare nuove aule utilizzando finanziamenti provenienti da enti sovracomunali, in particolar modo parliamo della regione Campania e dell'Unione Europea, rimanendo in tema di politiche scolastiche. Un altro nostro obiettivo scritto nel programma amministrativo è quello di cercare di portare di nuovo un istituto superiore nella nostra città per dare delle risposte certe anche a questa fascia di popolazione scolastica. Anche per un fatto anagrafico lei è sempre stato attento alle politiche giovanili, in passato però si è fatto poco, in prospettiva invece lei che cosa propone? Abbiamo le idee chiare anche da questo punto di vista, tant'è che la coalizione guidata dall'ingegnere Andrea Villano vuole una città viva, una città dove i nostri figli siano protagonisti indiscussi, protagonisti assoluti. Il mio intento principale è quello di ripopolare Piazza Principessa a Belmonte. A Talupo nel nostro programma amministrativo abbiamo previsto la trasformazione del Palazzo della Salute in un Palazzo della Cultura, un luogo creato appositamente ad hoc per i nostri giovani dove cultura, socializzazione ed aggregazione vadano di pari passo di modo che possa rappresentare anche un'evidente valvola di sfogo a quelle che sono le devianze giovanili. Orta di Atella è città di cultura, Orta di Atella è la città delle maschere dell'Ano, è la città di Virgilio, è la città del teatro. Anche lo sport è uno strumento utile per favorire la socializzazione dei giovani, lei su questo settore che cosa ha in mente? Orta di Atella è sì una città di cultura ma è senza dubbio una città di sport con tante eccellenze presenti sul nostro territorio cittadino e quindi la coalizione guidata dall'ingegnere Andrea Villano si ripropone senza dubbio di rivalutare le strutture sportive presenti sul territorio comunale, di renderle fruibili, magari anche con l'ausilio di partners privati, perché lo sport è vita, lo sport è altresì cultura.